L'estensione dell'ottavino si colloca all'incirca un'ottava sopra quella del flauto. Per comodità di scrittura e lettura, le parti per ottavino sono scritte un'ottava sotto rispetto l'effettiva altezza dei suoni. Quindi la sua nota più grave è scritta come Re situato sopra il Do centrale del pianoforte, ma d'effetto risulta un'ottava più acuto. Si può giungere fino al Do sovracuto scritto con 5 tagli addizionali in collo. L'effetto resta di un'ottava più acuto. È possibile ottenere suoni ancora più acuti, anche se questi presentano alcune difficoltà di esecuzione. Nel registro sovracuto è in particolar modo per i principianti molto difficile ottenere dinamiche delicate come il piano o il pianissimo. E anche le dinamiche più decise come il forte o il fortissimo non sono esenti da problematiche come quelle legate all'intonazione. Essendo questo il registro più caratteristico dell'ottavino, è quindi molto importante per il musicista esercitarsi al fine di ottenere diverse nuance senza intaccare l'intonazione.